Un saluto a tutti i ragazzi delle scuole, un saluto particolare ai ragazzi del liceo Gian Battista Vico di Unoscera Inferiore che oggi so che con i loro insegnanti per la giornata della memoria leggeranno alcuni brani del mio libro sul DNA. La giornata della memoria è una giornata importante perché è fondamentale non dimenticare quello che è successo nel passato. È un momento pieno di negazionisti. Ci sono i negazionisti dell'olocausto, ci sono i negazionisti del virus. Per qualsiasi cosa, qualsiasi evento, qualsiasi fatto storico, materiale, scientifico accertato si trova sempre qualcuno che dice ma no, ma no, ma è una cavolata, non è mai successo. Attenzione perché le opinioni sono una cosa importante, ma sui fatti accertati, sulle cose che possiamo davvero dimostrare e toccare con mano, non esistono le opinioni, esistono i fatti. Oggi forse leggerete delle razze umane, di come la scienza, la genetica, questa molecola qui, che io ho studiato per tanti anni, che si chiama DNA, dimostra che le razze umane non esistono. Non esistono scientificamente dal punto di vista genetico, esistono ovviamente nella nostra testa, nella nostra cultura, ma non sono un fatto scientifico. È una cosa che per secoli le varie ideologie hanno cercato di dimostrare, cioè il fatto che esistessero le razze umane, senza mai riuscirci, perché non è una verità scientifica. Oggi noi sappiamo dagli studi del DNA che non esiste in realtà quella che noi possiamo definire geneticamente una razza umana. Avrebbe potuto esistere? Sì, avrebbe potuto esistere. Se la nostra storia evolutiva fosse andata in modo diverso, ad esempio noi oggi potremmo vivere insieme ai Neandertal, che erano una specie diversa dalla nostra, ma che molti studiosi ad esempio considerano una diversa razza umana. Ci sono, per esempio, diverse storie di fantascienza dove si immagina un mondo nel quale i Neandertal sono sopravvissuti insieme a noi fino ad oggi. E allora noi sì che avremmo due razze umane. Ecco, questa è una riflessione un po' da fantascienza che però voglio, che non c'è nel libro, c'è nella versione nuova del libro che per ora è solo in inglese. Cosa succederebbe se noi oggi, se la nostra storia fosse andata in modo diverso e avessimo una diversa razza umana e dovessimo convivere con questa razza umana? Ecco, questa riflessione secondo me è importante perché anche se ci fossero davvero le razze umane, noi cosa dovremmo fare? Dovremmo farci la guerra l'una con l'altra? Dovremmo ammazzarci a vicenda? Dovremmo comunque trovare un modo per convivere insieme. Ecco, non negare mai la diversità, ma abbracciarla. Interpretando male, interpretando falsamente quello che c'era scritto in questa molecola, che oggi sappiamo essere una cosa molto diversa, per tanto tempo, per secoli e fino a tempi recentissimi, si sono commesse delle atrocità, si sono commesse delle ingiustizie nei confronti di altri esseri umani, solo perché c'era qualcosa che si chiamava razza e che doveva essere biologicamente diverso da noi. Non fate mai questo errore. La giornata della memoria è importante anche perché contiene la parola chiave memoria, che a me piace tantissimo. Non voglio togliere ovviamente l'importanza a questa giornata in particolare e a quello che ricorda, ma voglio anche farvi riflettere sul concetto di memoria. Memoria significa ricordarsi sempre qualcosa che si è imparato e che è successo. Oggi purtroppo viviamo in una società istantanea, in una società di amnesia, dove quello che si è sentito, anche magari le notizie che si sono sentite anche solo pochi giorni prima, si sono già dimenticate, dove chiunque può dire una cosa è il contrario di tutto nel giro di pochi giorni. Esercitate sempre la memoria, ricordatevi sempre che cosa ha detto chi, in modo tale che potete sempre anche giudicare la coerenza delle persone nel corso del tempo. Ho parlato anche troppo, vi lascio alla vostra lezione, alla vostra giornata della memoria e vi saluto. Seguitemi se volete sui miei canali YouTube, Rock Science, sui miei social, cervello sempre acceso dentro la scatola cranica. Alla prossima!